E' uscito proprio oggi Un Errore di Distrazione, un brano inedito scritto, interpretato e composto da Bruno Risas, presente nella colonna sonora della pellicola l'ospite per la regia di Duccio Gliarini. Il brano è stato candidato di recente al David Donatero del 2020 nella miglior canzone originale, un riconoscimento importante dopo il successo del nuovo disco che si intitola Chip, uscito il 10 gennaio e che ha debutato al primo posto nella classifica degli album dei vini più venduti. Un lavoro vero, sincero, autentico, diretto e introspettivo che il cantautore andrà a portare direttamente nei parchi più importanti di Palazzetti, tutto il nostro paese d'Italia, per 10 tappe complessive che si parte, vi ricordo, al primo o meno dal 21 marzo 2020. Il suo brano descrive la fine di un amore in maniera tranquilla, serena e delicata. Un passaggio che, nella realtà dei fatti, è presente nella via di ogni essere umano. La scrittura di Sass Brunori va a descrivere, attraverso piccoli dettagli, i momenti più importanti, più caldi, più intensi della vita. Quella che è quella delle persone. Grazie a tutti. Il video termina con un saluto caro da Reando. Tanti auguri a Brunori Sass. Grazie a tutti.